La regione Puglia vede molto favorevolmente qualsiasi iniziativa che si colloqui nell'ambito del turismo e che riguarda il mare. Questa regione è essenzialmente protesa nel mare, quindi è la nostra principale risorsa da un punto di vista turistico. Per me è stato che chiudo un cerchio perché c'è avendo il ristorante, le barche vicine a me che peschiamo, cuciniamo il nostro pesce, avendo anche il viti di turismo che faccio dormire le persone e ho concluso il cerchio di dargli anche l'opportunità di uscire in barca. Il mestiere è quello del pescatore complesso, difficile in questo momento in cui l'economia fa fatica ad avanzare. E quella del pescaturismo è certamente una pratica molto promettente perché l'attrazione turistica del mare, di queste meravigliose coste, può vedere i pescatori soggetti di un nuovo turismo sostenibile. Ridurre lo sforzo di pesca del 50%, ma la pesca turismo è molto positiva. Io devo ringraziare Alieus e la cooperativa Serapia che insieme hanno costruito questo progetto. Devo dire che i protagonisti veri però sono stati i pescatori, queste straordinarie personalità del mondo, del mare, questi signori che amano il mare e vorrebbero condividerlo con noi questo amore. Conosco personalmente i pescatori che sono stati fantastici nell'aprirsi anche alle scuole. Abbiamo fatto diverse escursioni anche con i bambini piccolissimi, anche di tre anni. La cosa bella del pescaturismo è proprio questo, è poter fare vivere la nostra esperienza da pescatore.